Di cui in due mesi un'attività piccola come la mia deve pagare 2.700 euro. Di questi 2.700 euro la metà sono soltanto oneri di trasporto, spese di sistema e IVA. Conti alla mano, il caro Bollette sta portando seri problemi alle attività commerciali. A tante aziende come la ristorazione, le cartiere, le palestre e tante attività che si stanno trovando in grossa difficoltà perché le bollette sono quasi raddoppiate se non può dire anche qualcosa di più. Basta notare che ieri proprio è arrivata una bolletta in riferimento al mese di dicembre 2.550 euro, circa 650-700 euro in più rispetto ai mesi precedenti. Sto parlando sempre come parità di consumi. C'è stato un aumento generale di tutte le materie prime che purtroppo, volendo o nolendo, incidono anche sul consumatore finale. E' aumentato ora, in questi giorni a Pontanera, aumenta anche il caffè di 10 centesimi. Perché? Aumento delle bollette energetiche, aumento del caffè della materia prima, c'è un personale che comunque ha un costo perché c'è sempre una grossa differenza, c'è un cuneo fiscale elevato. Su ogni bolletta il 50% è semplicemente per le spese onere di trasporto, IVA, aumentano i consumi reali dell'energia. E tutto questo aumento di costi si riflette inevitabilmente sul consumatore.